questo è il canale di menta denzeta iscriviti e metti i pollici in su ciao a tutti amici di youtube e oggi vi insegnerò a modificare la lampada che abbiamo costruito ora questa è la lampada nella descrizione c'è il video bene allora per fare da generatore questa lampada bisogna tagliare i due fili che portano all'interruttore così vedrete che non funzionerà più non vi preoccupate bisogna sfilarli allora respiro e trovo tutto da voi allora una volta sfiliati i fili non funzionerà lo stesso però se li riuniamo tornerà a funzionare allora a questi fili possiamo attaccarci di tutto ad esempio un motorino e vedete che funziona possiamo attaccarci una torcia poi se riusciamo a fare 4 volt ovvero 3 pile che sono 4,5 possiamo scaricare il nostro cellulare poi per far funzionare il nostro cellulare poi per far funzionare la lampada basterà possiamo riunire i fili e cliccare l'interruttore con questo metodo con delle pile buone cariche riusciamo ad accendere il massimo 3 lampadine da 3 volt caricare per 3 volt il telefono e mettere in funzione un motorino come questo da 2 volt per 2 ore a susseguirsi ci saranno delle immagini che spiegheranno il funzionamento ciao a tutti grazie grazie